Come caricare un lungo fucile per pesca nel blu come il Voodoo Atlantis? Caricherò un solo elastico per ovvie ragioni di sicurezza, poiché i fucili subacquei non vanno mai in nessun caso caricati fuori dall'acqua. Afferrare con una mano l'elastico e afferrare il fucile a un'altezza comoda davanti all'impugnatura. Quindi avvicinarsi l'elastico fino a poter mettere l'impugnatura sul petto. Quindi afferrare l'elastico con entrambi le mani per portarlo fino alle tacche. Ripetere quindi l'operazione anche con gli altri elastici. Grazie.